Benvenuti sul canale Robo di Megalopoli, oggi recensiamo lo Shingheter Dragon Ryobot prodotto dalla Sentinel. Ma prima di iniziare con tutto quanto, la recensione, da dove salta fuori questo robot, dove l'ho preso, prezzi, informazioni, solite robe, piccolo cambiamento su come vanno le recensioni, tipo a dicembre avevo iniziato a introdurre questo discorso sui checkmark. Per un semplice motivo, ovvero io mi rendo conto che dato che sto prendendo meno robot, quelli che prendo mi piacciono molto, è difficile riuscire a capire se io dico che sono tutti quanti belli, su quale vale la pena spendere soldi e quali invece uno si può anche esaltare. Specialmente perché per tutti quanti abbiamo tutti quanti più o meno gli stessi problemi, spazio, budget e quant'altro. E se io alla fine sono entusiasta di ogni robot, alla fine è come se non fossi entusiasta di niente, perché se tutto è bello, niente è bello, proprio come discorso abbastanza banale. Quindi che cosa facciamo? Mi pare che su un robot a novembre o a dicembre avevano iniziato a dare un checkmark, ovvero una crocetta. Il robot prende una crocetta se fa una cosa e ne prende due se la fa in maniera assolutamente eccezionale. Sul livello sul fare la cosa, il primo livello di checkmark è praticamente oggettivo, è quello che si va a contare, nessun altro gli darebbe altre opinioni. Il secondo livello può essere più su livello oggettivo, devono fare qualcosa di più esoterico. In alcuni casi io non lo darò mai, sarete voi alla fine, quando vi farete i vostri conti, a dire ok, lui ha dato uno, io questo per me è più importante, gli ne do due. Per fare un esempio sul peso, per me il peso non è mai importante come materiali, fin quando c'è quel minimo di metallo, quel minimo di solidità per darlo, ma per molte persone il peso è una cosa importante. Quindi nel caso io dico, vabbè, raggiunge il peso minimo, un po' di metallo, un checkmark, per voi contatene due. Perché alla fine, pochi soldi, poco spazio, tantissima roba che esce, uno deve decidere cosa gli piace e cosa non gli piace, e il mio canale che ha i robot prima, proprio per aiutarvi a fare una scelta, per poter cancellare il pre-order nel caso non vi interessasse più, o per poterlo fare nel caso vi interessasse, ai conti fatti penso che sia una cosa abbastanza utile per andare a riassumere quella che è la mia opinione, che molto spesso si conclude in pro e contro. Ecco, abbiamo trasformato questa cosa in pro e in contro, in che cosa fa bene, che cosa fa benissimo al robot. Comunque, scusatemi per questa mini tirata di due secondi, mi sembrava una cosa carina, se non siete d'accordo scrivetemelo sotto, se siete d'accordo, se vi sembra una cosa in più aggiuntiva, che vi piace, dato che mi ci vuole del tempo, fatemelo sapere, ribadisco, non mi piace dare voti, alla fine sarà semplicemente un su quante crocette massime e quante ne ha prese. Tutto qua. E poi iniziamo anche a vedere i colori su una parte separata da quelli che sono gli snodi, perché mi rendo conto che con la telecamera non si vede tutto quanto, quindi ogni tanto ve li devo proprio raccontare. Comunque, questo qui è un robot che compare, ma intravisto, all'interno di Gettergo verso la fine, ma non lo si vede in questa funzione, lo si vede tipo con un ammasso di lava e schifo sopra. Poi ricompare all'interno di quello che è l'anime, scusate, nell'anime il manga a Shin Getter, ma anche lì mischiato tutto quanto agganciato insieme, non si capisce che cos'è. In questa forma non appare all'interno di Getter, il robot Armageddon, ma compare nella sua versione finale, perché poi questo robot ha una versione finale, che è la True Version con Drago attaccato, questo viene direttamente da Super Robot Wars. Come sapete io sono un fan di Super Robot Wars, sto provando più o meno a farmi il roster del videogioco, questo è uno che uso nel videogioco fin quando non ho sbloccato il Getter Devolution, mi piaceva molto come design e quindi ho deciso di prenderlo. Il prezzo è abbastanza alto in questo caso e mi pare di averlo preso su Amazon Japan. Comunque, scatola in linea con quelli che sono tutti quanti gli altri robot dello stampo Mazzin Kaiser, adesso iniziamo a vedere quelli che sono gli accessori. Allora ragazzi non c'è tantissima roba, vedete subito che c'è la solita basetta per lo stile Mazzin Kaiser, per l'appunto con aggancio, poi abbiamo il manuale solito senti nella colore che fa vedere quello che si può fare e non si può fare, leggetelo perché alcune robe non sono intuitive, non le avevo viste e l'ho dovuto prendere in mano. Poi allora, questo Getter se non lo sapete non è un trasformabile neanche all'interno del videogioco, sono i tre robot fusi insieme, quindi ogni tanto trasforma parte del suo corpo con le armi. Questa non è la versione esclusive nel quale c'è anche la roba di Benkei, Benkei dei ventilatori, per cui mi pare faccio vedere soltanto le pare delle Schengheter 2. Comunque vediamo questa qui l'ascia con una chicchetta di sfumato tra due colori metallici, tra l'interno e l'esterno, allora, ed è leggerina ma deve essere di plastica leggera, al contrario questi due bastoni che sono su quale si fa ghiacciare sono di metallo. Adesso io, dato che rifaccio il volume alla fine, non si sente però tutti quanti i bastoncini sono di metallo, questo è il pirolino che si fa per chiudere, anche perché poi c'è l'opzione ascia e c'è l'opzione martellone. Comunque, allora, le manini, mani espressive, queste mani sono ultra dettagliate, hanno i dettaglini di verdi tra le giunture delle dita, queste qui, altre mani espressive, e qui, allora, praticamente ho agganciato un braccio sopra dove faccio le riprese, se non avete visto Devilman non lo sapete ancora, e sto prendendoci la mano per capire come farvi vedere la roba. Comunque, allora, mani ultra dettagliate con questa chicchettina del verde, tra le nocche, pugni chiusi, pugni a mano aperta, e questa è la parte giocosa di quello che c'è dentro questo modello. Praticamente questi qui sono dei reattori, dei martelli, dei braccioni, fanno un sacco di roba. Alla fine, quando faccio vedere le pose, vedete, e allora, sono colorati, c'è l'aggancio a metallo, ma sono leggeri per fortuna, ci sono diverse modalità di rosso e quant'altro, e diversi metallici, fatti molto molto bene, standard standard quando lavora bene, quindi gli diamo un checkmark per accessori, ce ne sono tanti, sono belli, sono divertenti, ma non fanno gridare o caspiterina, non so neanche più dove rimetterli, che ogni tanto capita su questo canale. Adesso andiamo avanti, finalmente, a vedere quello che è il robot. Allora, il robot è alto tra i 21, i 22, i 23 centimetri, dipende come gli metti il collo, è 500 grammi, cioè mezzo chilo più o meno, ha delle parti in diecast esterne, il pancino in diecast ha un'ottima sensazione di stabilità e di peso in mano, è bilanciato abbastanza bene, l'unica cosa che al volo lascio un pochettino così, sono i piedi nel quale gli snodi tengono fine, ma dico proprio quello della punta del piede, quindi alla fine basta non metterlo in punta di piedi e non dà nessun problema di stabilità. Questo qui è proprio prima impression avendolo in mano. Comunque è colorato in quella modalità super lucido, poi andiamo a vedere i colori uno alla volta e fa un effetto stranissimo, una volta che l'avete tirato fuori dalla scatola, sembra più grande di quello che è. Questo è dovuto all'utilizzo di lucidi e semi lucidi nella colorazione. È una cosa strana che avevo visto fare solo nei frame toys, che alla fine sono sempre senti nel, quindi stessa cosa, comunque quello me lo dimenticate è il plastico. Comunque materiali, come vi ho detto, struttura se c'è prende solo un checkmark, non ne prenderanno due mai, il secondo qui lo potete scegliere voi. Adesso andiamo a vedere quella che è la colorazione. Comunque questo è un po' revisionato rispetto all'originale di Super Robot Wars, mi ero dimenticato di dirlo. Una revisitazione leggera e in stile loro Shinghette. Allora vediamo il colore. Il bianco è fantastico, è un bianco semi lucido, non del tipo perlacio come quello del line barrel. Poi vediamo il simbolo sul petto che richiama il Getter 2 con gli occhi verdi, trasparenti, colorati. La mutanda gialla che richiama il Getter 3. Tutti quanti, allora, ha delle parti lucide e delle parti semilucide. Vedete che c'è questo bordeaux su spalle e piedi e poi ha una parte semilucida internamente da dove spuntano le lame. Allora, io pensavo avessero fatto a risparmio, in realtà, dato che hanno fatto la stessa roba sull'accessorio, che è enorme di questa roba, è semplicemente per dare più profondità. È un effetto che non viene usato molto spesso, ma mischiando lucido e semilucido gli dai più grandezza. Lo vedete davanti. Comunque, il rosso, che sembra plastica lucida, in realtà è colorato. Sono andato a vederlo sotto la spalla. Vedete che ha queste parti azzurre metallizzate e anche il metallo delle spalle è colorato. Gli snodi su tutti quanti in metallo hanno colorato tutto quanto su questo blu metallizzato. Allora, la colorazione è buona. Non è dai confini della realtà. Ad esempio, quella superiore del Metal Build Shingheter Bandai, però è ottimamente fatta. ha qualcosa, tipo quel pezzo che non sembra colorato un bordo da dove spuntano le lame, che mi lascia così. Comunque, a parte per il resto, tutto quanto il resto è fatto ultra dettagliato. Adesso, vediamo l'articolazione. Allora, iniziamo con la testa, che ha un'articolazione, che chiamare esagerate e dire poco, ball peg sulla testa, con in realtà pure una specie di... può... Allora, praticamente può uscire fuori da quella che è la base del collo. È la prima volta che lo vedo questo e anche la base proprio della testa può uscire fuori. Le spalle, i coprispalle, si estraggono, possono ruotare su quella che è la spalla e si possono aprire pure le spalliere per dargli più gioco. Praticamente, spalla e coprispalla vanno su due meccanismi diversi. La coprispalla è su un ball peg e in più si apre per dare proprio il massimo. Vediamo che ha questi snodi che ovviamente le braccia vanno di sopra dell'altezza delle spalle di molto e praticamente sono agganciati su una specie di palla che rota su quella, su proprio una spalla vera e propria, sull'aggancio del dorsale che permette di salire ancora di più di quello che è l'altezza che vediamo quasi sempre, che è l'altezza delle spalle. Snodo doppio, con pezzi che si estraggono colorati. Vedete? Chiusura completa, con possibilità di girare al bicipite. In più, prima volta in un Rayobot c'è la movimentazione all'interno del polso come i Flame Toys. Praticamente l'ultima parte del polso è agganciata a un ball peg. Poi vedete? Le lame hanno una parte, sono le lame e la parte attaccata si muovono anche loro rispetto a quello che è l'avambraccio. Adesso Butterfly Joint con pezzi di armatura che si muovono e si espandono sia davanti che dietro. Molto pronunciato. Ragazzi, la roba che non avevo mai visto era quello delle lame sull'avambraccio che si muovono. Allora, ab crunch, soltanto un livello di ab crunch. In realtà forse c'è anche il secondo, però vabbè. Allora, la parte addominale ho l'impressione che si possa spostare un pochino, però essendo in metallo è una cagata rovinare subito la verniciatura, perché la verniciatura sul metallo è plastica contro metallo non è una cosa buona. Quindi, però, già con la parte sopra dell'avambraccio è simile alla soluzione che hanno usato col Metal Build, con T-Fati. Forse questo si muove di più, però. Allora, adesso vediamo con la gamba che può salire ancora di più. Praticamente si muove la mutanda e sale di più. Gli snodi, non c'è niente a cricchetto sfortunatamente, però sono assolutamente rigidi. Si muove, c'è lo snodo sulla coscia che lo fa muovere sulla coscia, può fare la spaccata avanti e indietro. Allora, perché io ho visto nelle istruzioni che la fanno fare, non ho capito se lo snodo è disceso oppure no, come vi ho detto, sono rigidissimi. Io ho provato più o meno a farci un po' di forza, però probabilmente ci devo fare la mano. Vedete, poi questa roba che parte dalla Sentinel con i Madzen Kaiser, parti che ha la gamba che rientra dentro sul polpaccio e il dettaglio all'interno colorato dalla parte del ginocchio. Vedete, poi c'è la caviglia che penso non è un ball peg però simile come movimentazione. Punta del piede che si alza con dettaglio colorato sotto il piede e metallo a vista. C'è metallo, l'unico a contatto che c'è è quello del bacino. Mi ero dimenticato di fare la teiera, fa la teiera. Questo è il rayobot più movimentazione e probabilmente è a pari con i flame toys con movimentazione se non di più per la storia delle lame. Di più è soltanto i cricchetti però con i cricchetti non riuscirebbero a fare tutta questa roba e quindi gliela passiamo per buona. Buona eccezionale ragazzi, eh. Questi sono i due snodi. Comunque, il solito confrontino con il nostro cattivo di Monkey Kid del Lego poi andiamo a tirare fuori da il vecchio Shin Getter Black della Sentinel quando li facevano completamente metallo fuori sotto gli snodi hanno un pochettino ceduto suoi e quindi nel mio caso verrà cambiato col 5 Pro peccato che sia troppo grande ma va bene con la recensione dello Shin Metal Build ragazzi sono grossi più o meno uguali cioè si porta più largo il Metal Build ed è colorato meglio ma da articolazione fa di più il Getter Dragon quindi proprio come confronto così però è colorato meglio il Metal Build quindi vedete ma come stile non stanno benissimo insieme perché il Metal Build è super 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 interpretato e poi andiamo a prendere quello che secondo me a questo momento è ancora il Robo dell'Anno il Raio Bot Gurren Lagan che prendete in mente dallo stile fa tantissima roba benissimo adesso andiamo su quelle che sono le conclusioni come vi dicevo allora massimi sono 8 checkmark noi gliene abbiamo dati 5 qualunque cosa raggiunge 4 fa tutto quello che deve benissimo questo non è un voto è un voto di giudizio è un voto per capire effettivamente comparativamente che cosa è un pochettino meglio dell'altro se vi piacciono due modelli se siete limitati nel budget e potete selezionarne soltanto uno dei due non sono non è che vi dico bello 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 brutto 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 abbiamo visto i positivi i negativi nel durante sui negativi l'unica cosa è il prezzo un po' alto se non è stato preso in preorder al tempo che fu e poi che cos'altro allora gli snodi a cricchetto qui non li avrei messi come un positivo perché spingono così tanto sul lato articolazione che qui è quando i cricchetti mettono effettivamente un limite perché anche se lo fai piccolo non riesci a fare queste pose sceme che mi sono messo a fare in fase finale effettivamente questo è il massimo è bilanciato bene secondo me dal lato del forse della colorazione si poteva usare un pochettino di più però tutto quello che fa ragazzi lo fa benissimo gli ha detto soltanto un po' di sfiga che abbiamo visto il metal build due o tre settimane fa che effettivamente come colorazione va sul lato campioni del mondo frame toys eccolo qui che si è staccata l'ala e mi sono dimentiato di tagliare il videone durante comunque adesso andiamo avanti ok quindi un buon prodotto raccomandato se siete dei fan di super robot wars raccomandato se siete dei fan di getter si relativamente parlando nel senso questo qui non vi compare mai né nell'anime né nel manga quindi non ne avete particolarmente bisogno so io spero che me lo facciano con la versione con il dragone agganciato così finalmente chiudo il discorso getter e poi che cos'altro che ne dite di questo sistema di valutazione alla fine perché di dirvi è bello è bello bello e quant'altro non ha molto senso però mi sa che qui dove praticamente si potrebbe essere raccolato il 100% delle persone che lo tengono in mano sui vari punti non c'è niente di male certo 4 deve essere un buon prodotto 5 è un prodotto molto buono con delle punte d'eccellenza e tutto quello che sotto 4 fa qualcosina male quindi e quant'altro per favore datemi un feed fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo sotto se non vi interessa fare questo tipo di riassuntino nel durante fa niente torniamo a farle come prima senza nessunissimo problema e poi niente allora sulle prossime recensioni mi dovrà arrivare il Cylantropo della Golden Bear e io praticamente con quello e un altro pezzo che mi dovrebbe che doveva arrivare adesso ma alla fine arriverà tra un mese perché l'hanno rallentato più o meno finisco quelli che sono i miei 50 pezzi di collezione poi arrivo a togliere e sostituire pezzi che vedo migliori soggetti più o meno interessanti però c'ho più o meno i miei 50 ce li ho là più alcuni spazi vuoti che sono effettivamente tenuti per roba che esce alla fine di quest'anno inizio dell'anno dopo quindi se volete si può parlare un pochettino di questo perché alla fine non è che uno può continuare ad aggiungere 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 senza pezzi senza fermarsi mai i soldi sono quello che sono lo spazio è quello che è e uno vuole dargli un po' dignità esponendoli comunque per tornare a questo raio cosa ne dite una cosa che mi sono dimenticato di dire viene molto meglio dal vivo sto rossolino è una schifezza in camera sfortunatamente come quando la roba di ccs sembra super lucida in realtà è semilucida dal vivo questo sembra troppo lucido gli da un effetto plasticoso in camera in realtà dal vivo non ce l'ha comunque dai robot ah si sto preparando un video sulle case le case di produzione arriverà breve comunque dai robot di megalopoli e tutto quanto mi raccomando mettete un like sottoscrivete e lasciate un commento ok ciao a tutti grazie 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 grazie